Ho trovato questa ottima app per iPad, veramente eccezionale per ideare gli storyboard. Ci sono diversi personaggi già preimpostati, li ho riadattati un po' alle esigenze della sceneggiatura e mi aiuta molto a velocizzare le fasi e anche ad avere uno sguardo più creativo nel risultato finale. Come vedete gli storyboard permettono davvero di avere un controllo creativo dell'immagine molto elevato perché con pochi semplici disegni, anche se dovesse essere schifo, sono molto elementari, il film è già previsualizzato, pronto insomma, per poter poi analizzarlo al meglio insieme al regista, agli attori, quindi quando saremo sul set per effettuare le riprese vere e proprie, possiamo lavorare con più velocità ma soprattutto riusciamo ad essere più sicuri di quello che stiamo facendo perché ovviamente abbiamo già calcolato le eventuali difficoltà tecniche, artistiche o di posizionamento attori e quant'altro in questa fase, che rientra in tutto nella preproduzione, che è tutta quella fase di preparazione della realizzazione di film stesso.